Fermo non da mesi ma da anni. Dieci per l'esattezza gridano allo scandalo i residenti di Via Norico a Milano. Le case Aler sarebbero dovute nascere contemporaneamente a quelle costruite dalle cooperative, finite da ben nove anni in quei campi che per decenni hanno ospitato hangar, poi carrozzieri e rottamatori abusivi. Le prime notizie del cantiere della vergogna risalgono agli inizi degli anni 80, quando il comune varò il piano edilizio denominato Zama Salomone, lotto 191, piano che si arenò quasi subito perché si scoprì che una buona parte delle aree inserite nella lottizzazione erano dello Stato. Terreni che il comune riuscì ad acquistare solo nel 97. Con il lotto 191 dovevano sorgere 14 palazzine per un totale di 400 alloggi. Sette sono state completate nel 2002. Delle sette palazzine gemelle con 186 alloggi tra edilizie convenzionate e vendita che Alera avrebbe dovuto realizzare nel terreno ceduto dal comune non si sono viste neppure le fondamenta. L'impresa che vince il primo appalto è poi fallita. La seconda gara, giudicata due anni fa, non può partire senza la bonifica. Di fatto, come vedete, il quartiere è rimasto monco, incompiuto e la via Norico, la strada creata da qualche anno tra via Salomone e le case nuove, si snoda tra cantieri abbandonati e diventa ogni giorno un luogo sempre più pericoloso, tra topi, rifiuti e una casetta nascosta in lamiera abitata da tre nomadi. Decine le mail indirizzate dai residenti al comune, segnalazioni che il consigliere del PD Cormio gira puntualmente all'assessore competente De Cesaris, sperando che possa dare un impulso alla bonifica dell'area per riavviare la costruzione dei nuovi alloggi.